direi che ci siamo raga ci siamo o no? vi fate sentire un cazzo di casino? la situazione è troppo figa vi fate un casino raga il mio tre per i fratelli di Dolly Noir che hanno organizzato sta figata uno, due, tre lo volete sentire un po' di beatbox, sì o no? che cazzo era sta roba raga? lo volete sentire, sì o no? sound check sound check Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.